Cari amici buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buona mattina, vi devo confessare che sono molto contento di parlarvi perché sono stato abbastanza male per un periodo di tempo, adesso sono praticamente in forma e a febbraio riprenderò a fare i concerti per le principali città d'Europa, vi ringrazio di tornare ai miei concerti, vi ho lasciato veramente con molto dolore, non solo quello della mia malattia, ma proprio il dolore di non avervi più presenti alla mia esecuzione che vi dedico sempre con tutto il cuore e con tutto l'amore, avrete da ammirare sempre un'orchestra grande e un coro abbastanza grande, dovete sapere che questi concerti sono dei concerti che sono un atto eroico di chi li organizza, è importantissimo far circolare più di 200 persone con anche i fonici, chi trasmette il suono, non è facile trovare queste cose che sono dedicate poi a me e a voi, pubblico eccellente, io vi aspetto a questi concerti, il prossimo vicino futuro, da febbraio in poi, arrivederci!